Ciao ragazzi e bentornati, buona domenica innanzitutto, allora oggi abbiamo il nostro solito recap settimanale in cui parliamo di quello che abbiamo fatto nella settimana precedente e di quello che faremo nella settimana che viene. Allora partiamo col fatto che nel canale abbiamo concluso Home Sweet Home, concluso per modo di dire nel senso che ho scoperto amaramente che Home Sweet Home è il primo di due episodi e che è letteralmente troncato, cioè non è per niente autoconclusivo come un gioco normale per cui a breve mi accingerò, se può dire accingersi, penso di sì, a comprare il secondo capitolo per vedere come va a finire anche perché anche di quello ne parlano molto molto bene per cui sono curioso di vedere insomma di come finisce questa storia perché mi è piaciuto davvero molto come horror, davvero davvero tanto. Poi avete visto che abbiamo iniziato Little Nightmares e che oggi posterò l'ultima puntata, un gioco davvero davvero bello, molto criptico perché non parlano mai, ambientazioni stupende, una colonna sonora stupenda, un gameplay davvero davvero unvincente e anche se purtroppo è stato veramente veramente corto perché il gioco base l'abbiamo finito in un'oretta e mezza barra due a farla grande, sbagliando svariate cose e mettendoci del tempo su certi indovinelli ecco. E le espansioni bene o male in un'oretta e mezza le abbiamo concluse, comunque davvero davvero bello, consigliatissimo. Dopodiché avete visto che abbiamo ripreso regolarmente Ghost of Tsushima, finalmente, ha fatto una fine indegna nel mio canale ma non è giusto, porca miseria, comunque in ogni caso non vi preoccupate che andiamo avanti regolarmente con quello. Poi abbiamo iniziato in live un'altra serie horror davvero davvero bella che vi consiglio, il gioco si chiama Unforgiving a Northern Hymn, cioè è un gioco in prima persona e basato sul folclore svedese per cui ci sono mostri davvero davvero unici e particolari e mi sta piacendo un sacco perché ve lo consiglio, lo riprenderemo fra poco in live. Dopodiché abbiamo anche iniziato su richiesta dello community che chiedevano da molto molto tempo Resident Evil 5, sempre in live, che al contrario di altre serie però verrà iniziato e concluso in live e con calma postato su YouTube una volta concluso, in modo da permettere diciamo un post, una pubblicazione molto più frequente e coerente. Allora una cosa che avrete sicuramente notato nel canale è che spesso volentieri le puntate di una determinata serie escono con un intervallo di tempo molto ampio diciamo tra una e l'altra, è una cosa che voglio rimediare in qualche modo e pensavo di fare per l'appunto come vi ho già detto no? Per esempio iniziamo una serie in live, la concludiamo in live e una volta che è tutta conclusa io me la impacchetto per bene e dopodiché la pubblico, credo sia una cosa interessante da fare. Avete visto che abbiamo anche iniziato Super Mario Sunshine, gioco molto molto carino nonostante i suoi anni, dicendo, vi dico però che io non sono un appassionato di Super Mario, quindi questo qua praticamente è il mio secondo terzo Super Mario, perché i primi sono stati quelli per il NES e mi sta piacendo molto, però mi sono reso conto che ovviamente la community che gira attorno a questo canale non vuole vedere Super Mario, non è interessata Super Mario, quindi è molto molto comprensibile, in ogni caso comunque lo andremo a concludere in live, poi postarlo con calma nel canale anche questo, anche se non mi aspetto grossi risultati, però mi diverte molto come gioco e per cui ci voglio giocare. L'unica nota importante della settimana prossima è che vi confermo, con molto molto piacere, mio e anche per voi spero, che Muffie Definitive Edition si farà, l'avevo già detto nella settimana precedente, ma qui ve lo riconfermo nel caso vi siete persi il recap della scorsa settimana, Muffie Definitive Edition faremo il walkthrough intero. È un gioco che attendo da molto molto tempo, perché veramente può rappresentare il ritorno della mafia classica nella attuale generazione, dopo molti molti anni di essenza, perché l'ultimo gioco decente era Il Padrino, Il Padrino e Il Padrino 2, beh anche Mafia 2, ma credo sia un po' più vecchio, credo, non sono sicuro onestamente. E poi ovviamente porteremo i soliti, soliti, nel senso i nuovi indie che scopro ogni tanto qua e là, per vedere cosa troviamo di bello insomma. Detto questo direi che possiamo concludere questo recap molto molto sinteticamente, se avete domande ovviamente fatele qui e grazie di nuovo, buona domenica!